Tere spettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tere Diogeno. Un collaudato sistema ultradecennale, un intreccio politico mafioso e quanto delineato da un'inchiesta della DDA di Catanzaro che stamane ha portato a nove arresti, tra i quali cinque politici. Associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione. Sono i reati contestati a vario titolo nei confronti di dieci persone arrestate questa mattina dal comando provinciale di Cosenza. Su disposizione, su ordine della DDA di Catanzaro che ha eseguito le indagini, i PM interessati a queste indagini sono il Crotonese per Paolo Bruni e il PM Vincenzo Lumberto. L'accusa è rivolta a cinque di questi, sono politici, politici anche eccellenti. Infatti tra gli arrestati ci sono l'ex sottosegretario al lavoro Sandro Principe, già consigliere regionale più volte del Partito Democratico, ex sindaco di Rende, nella passata legislatura è stato anche il capogruppo del PD in consiglio regionale. c'è Umberto Bernaudo, poi c'è l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, l'ex consigliere provinciale Pietro Ruffolo e l'ex consigliere comunale Giuseppe Gagliardi. Questa mattina i carabinieri hanno bussato presto alla casa di questi signori e li hanno portati e li hanno notificato gli ordini di arresto. Sono arrestati anche quattro esponenti della Cosca con il quale sarebbe consumato il presunto reato, la costa Lanzino-Ruà. Gli esponenti della Cosca Lanzino-Ruà sono Umberto Bernaudo, no scusate, il consigliere che è stato arrestato il politico, ex sindaco di Rende. Poi c'è, mi sto imbrogliando con le carte, adesso vado a quella giusta, eccoli qua. Allora dicevamo che della Cosca Lanzino-Ruà c'è Adolfo D'Ambrosio, Michele Di Puppo, Francesco Petrucci e Umberto Di Puppo. Il decimo nome tra gli arrestati è quello di Marco Paolo Lento, quindi 10 in tutto. 5 sono politici e 5 non politici. L'accusa è di una gravità inaudita. Ve lo ricorderete, l'ex sindaco di Rende, che è stato tra l'altro soggetto a un attentato, è stato in pericolo di vita, ha mantenuto col fiato sospeso tutta la Calabria quando durante un comizio di qualche anno fa qualcuno gli sparò un colpo a bruciapelo, fu arrestato la persona e si pensò a futuri motivi. Adesso non si capisce, non è stato chiarito questo aspetto, ma sicuramente ci potrebbero essere collegamenti con questa situazione. gli inquirenti parlano di un collaudato sistema ultridecennale, un intreccio politico mafioso che ha consentito a candidati alle varie tornate elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rende tenutosi dal 1999 fino al 2011, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza dal 2009 e dal Consiglio Regionale della Calabria del 2010, di ottenere l'appoggio elettorale da parte di esponenti di spicco della cosca Lanzino-Rua che è una delle cosche più importanti e la più importante sicuramente di Cosenza. Tutti condannati in via definitiva per associazioni mafiosi in cambio di favori vari e quando secondo gli investigatori ha delineato l'inchiesta della DDA di Catanzaro che quindi questa mattina ha portato a dieci arresti cinque dei quali sono politici. Secondo i carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza le indagini hanno messo in luce un collaudato sistema ultridecennale che ha visto quale maggiore centro di interesse l'amministrazione comunale di Rende e quindi tutto è ruotato intorno a Rende. Siamo alle solite notizie che in Calabria vede scattare le manette per rappresentanti politici che hanno avuto ruoli importanti come l'ex sottosegretario e meno importanti come quelli di consigliere comunale o consigliere provinciale. La prossima crotone stamane ha presentato ufficialmente il proprio candidato a sindaco. Grazie agli amici della stampa per aver accolto questo invito. La prossima crotone ha scelto Ugo Pigliese è il candidato a sindaco. Sì, oggi facciamo questa conferenza stampa per presentare il capitano di una squadra che abbiamo formato in questi mesi di lavoro che ha deciso di stare insieme per aiutare crotone. Una città che ha vissuto anni di disastri, disastri che sono sotto gli occhi di tutti per una gestione amministrativa fallimentare che per definirla basta poco, basta qualche aggettivo per descriverla, litigiosa, conflittuale, pigra, assente, chiusa e poco aperta alla partecipazione al confronto con i cittadini. Noi pensiamo, l'abbiamo detto più volte, esponendo la nostra tesi politica e racchiudendola in una semplicissima formula che si chiude un ciclo, un ciclo che non è stato produttivo e utile per crotone e che si apre una nuova fase per queste città, una fase che non può essere costruita ricorrendo ai vecchi arnesi ma deve ricostruirsi con metodi, obiettivi, uomini nuovi. Noi oggi presentiamo il candidato a sindaco, un condottiero di una squadra, una prima squadra già formata, composta, che ha deciso di rimborcarsi le maniche e di scendere in campo per aiutare Crotone. Crotone ce la può fare se tutti quanti dedicheremo il massimo del nostro impegno per risollevare le sorti di questa città. L'ha definito capitano, io so che lui è un uomo di mare, il comandante della nave. Abbiamo fatto anche questo passaggio tra di noi quando abbiamo detto il comandante di una nave che oggi inizia a navigare in un mare in tempesta, però se tutti gli uomini sono al loro posto e ogni uomo ha il suo posto che gli è stato assegnato, la nave arriva in porto e arriverà nel porto sicuro. Le tre questioni che vuole affrontare se dovesse essere eletto sindaco? Io partirei subito dall'idea di una Crotone, un comune che funziona. Con questo faccio proprio completo tutto. Crotone che funziona significa Crotone che funziona nel senso di far partire tutte quelle cose che sono possibili far partire a Crotone e nelle quali noi crediamo, vale a dire il porto, l'aeroporto, il turismo. Ma tutti assieme non possono essere? Tutti assieme no, ma dovremmo cominciare a parlarne già da subito o cominciare a progettare da subito. E le prime cose rendere la città giardino immediatamente, cominciare con le fogne e cominciare a ripulire questa città, rendere una città vivibile, rendere una città attraente perché questo è il principio. Crotone è bella e lo sappiamo, ma Crotone deve diventare una città attraente per tutti. Grazie. Ugo Pugliese è il capitano di questa meravigliosa squadra e il candidato a sindaco per la prossima Crotone della città di Crotone, il nostro candidato. Ugo non è da meno a nessuno, io di lui consente che collaboro fino allo spasico. Io lo voterò e farò di tutto per farlo votare e soprattutto lo sosterrò ora e soprattutto dopo quando dovremo affrontare la difficile ma non impossibile sfida di aiutare Crotone a ritrovare la sua strada e incamminarsi verso un percorso di crescita e di sviluppo che tutti insieme possiamo costruire e realizzare. Soprattutto grazie a tutti per essere così, in tanti, così numerosi. Vi dico subito ed è chiaro ed è evidente che sono particolarmente emozionabili. Restiamo in argomento, ringrazia Mari Fiuta, Cesare Spanò, contattato dal centro-destra per la candidatura a sindaco di Crotone. Di questo e di altro ci parla Gaetano Megna. Cesare Spanò dice grazie e rifiuta la proposta che gli era stata fatta dal centro-destra. L'ho fatto ieri sera ufficialmente di candidarsi a sindaco, l'ho fatto ieri sera ufficialmente incontrando Vandaferro. C'è stato un incontro con Vandaferro che è una delle maggiori responsabili che coordina la campagna elettorale per il centro-destra nella provincia di Crotone e qui non ci sono le condizioni, non ringraziato, non ci sono le condizioni perché accetti questa candidatura. Quindi il centro-destra si trova di nuovo nella situazione di dover cercare un candidato. E non è l'unico che sta cercando il candidato. Anche nel PD, in seguito alla situazione che si sta determinando, qualcuno del PD sta cercando un candidato di superamento. Perché ormai sembra quasi acclarato che Arturo Cugliano Pantisano possa non avere il gradimento dei livelli regionali e nazionali del suo partito. Questo è almeno quello che si percepisce. Perché si percepisce questo? Perché secondo quanto ci è stato riferito il segretario regionale del PD, Magorno, Ernesto Magorno, non risponde al telefono quando vede che lo chiama qualcuno di Crotone. Non risponde a nessuno. Non risponde a nessuno. Quindi secondo quello che è stato possibile apprendere non rispondono nemmeno i livelli nazionali. E' chiaro che in disaccordo con i livelli regionali e quelli nazionali non si può procedere ad una candidatura. Anche se a Crotone non si arrendono. Infatti Maurizio Tricolo, che abbiamo sentito, che è il commissario cittadino, ha deciso di convocare, se non arriveranno novità nelle ultime ore, l'Assemblea cittadina per determinarsi. E anche a proposito di Tricolo arrivano altre notizie. Che il partito regionale sta per nominare un supervisore, una sorta di commissariamento del commissario. Questo è un supervisore che dovrà gestire la partita crotonese. E' chiaro, sono tutte notizie che non sono confortate da documentazioni ufficiali. Però quelle che ci hanno le notizie sono dirigenti di alto livello, non è che prendiamo le notizie per strada. E allora, la situazione è questa. Un partito che si è incartato, quello locale, perché continua a puntare alla candidatura di Arturo Cugliano Pantisano. Questa candidatura non passa, non passa perché adesso si è bloccata. E quindi si dovrebbe cercare un candidato che dovrebbe essere anche condiviso da Pantisano, perché il partito non è che può essere spaccato in mille pezzi, arrivare alle prossime elezioni con un partito diviso in mille rivoli, magari con candidati alternativi a quello che si presenterà col simbolo del Partito Democratico. Perché questo non è nemmeno da escludere, queste ipotesi. Quindi, allora, Pantisano non ha ricadimento. Almeno fino ad oggi è questa la cosa che emerge. Il candidato ufficiale non viene presentato perché qualunque ipotesi è stata fatta finora e è stata bruciata e il partito dovrà fare sintesi, sarà costretto a fare sintesi o attraverso l'Assemblea, se consenteranno la convocazione dell'Assemblea, oppure intervenendo finalmente con chiarezza, perché in tutta questa vicenda c'è un partito nazionale e un partito regionale che non fa chiarezza, perché non fa atti ufficiali, fa solo, come dire, mette in campo solo dei no, dei niente, niente. E quindi la situazione è completamente bloccata. Si sono, come si dice in gergo, si sono incartati. Scrive Salvatore Lucade, la direzione della Compagnia dei Democratici, dando uno sguardo al passato, salta all'occhio come la classe politica che da sempre ha amministrato il nostro territorio e sia stata composta prevalentemente da uomini. Oggi, rispetto al passato, una simile constatazione non può più essere accettabile. Un territorio come quello di Ciro Marina, oggi più che mai, ha la necessità di avere una classe politica che sappia mettere in campo una serie di azioni, che sappiano dare risposte esaustive. in tale ottica è ovvio che la visione femminile non può venire meno. Su questa linea di pensiero, anzi, una donna nel ruolo di sindaco potrebbe essere la giusta innovazione. Le personalità all'altezza di un tale incarico certamente non mancano. Ed ora qualche secondo di pubblicità. Rendere pulita la città è il nostro lavoro. Ma per tenerla pulita serve anche il tuo aiuto. Crotone di tutti. Collaboriamo a renderla più vivibile. Una città più pulita è una città più accogliente. Aiutaci anche tu a rendere Crotone più bella. Acrea. Da sempre. Al servizio dei cittadini. È stato rimosso il blocco lungo la statale 106, località steccato di Cutro, organizzato ieri dal comitato Le nostre strade Groviera, per protestare contro le condizioni precarie della viabilità lungo le strade della provincia crotonese. I manifestanti hanno deciso di sospendere la protesta, riferendo che il presidente della regione, Mario Oliverio, raggiunto telefonicamente fuori Calabria, ha assicurato al suo rientro la convocazione di un incontro a Catanzaro. Stamane, assemblea dei lavoratori della provincia di Crotone, con la presenza del presidente dell'ente intermedio, Peppino Vallone. Sentiamo. Mi incontro con i lavoratori della provincia questa mattina, riuniti in assemblea. Siamo ormai nella settimana santa. I lavoratori aspettano il pagamento degli stipendi arretrati. È arrivata qualche notizia in questa direzione? Abbiamo fatto una verifica di una comunicazione che avevamo ricevuto ieri per le vie brevi da parte della prefettura di Catanzaro, presso la quale avevamo fatto un incontro con i comuni di provincia di Vibo e di Crotone. E lì abbiamo avuto la conferma che il ministero, finalmente il MEF, ha sbloccato le risorse al ministero dell'interno per i trasferimenti delle... 4 milioni e 300 mila euro. 3 milioni e 800 mila euro. 3 milioni e 8 sono. Mi sembra, questo è il genere. Erano 4 e 3 prima, sono diminuiti? No, no. Ah, 600 l'hanno già mandato. Ci sono versate prima, insomma, qualche mese fa. Questa parte di sviluppo è di circa 3 milioni e 8. E naturalmente, questo naturalmente mette nelle condizioni, sto chiamando la tessoreria inutilmente in questi momenti, però certamente risponderanno in giornata, mette nelle condizioni di corrispondere agli stipendi dei dipendenti non appena pervengono. C'è la difficoltà, noi abbiamo il 29 di questa mese, abbiamo l'approvazione del bilancio. Quindi per Pasqua non fate in tempo. condizioni, non facciamo in tempo per Pasqua. Niente cuzzupe, insomma. Niente cuzzupe, niente uovo di Pasqua. Purtroppo sarà differito di una settimana a 10 giorni, perché il 29 c'è l'approvazione del bilancio. Anche a immaginare un paio di giorni indispensabili per lì. Ma diciamo una settimana, va? Diciamo una settimana, così siamo a po'. Diciamo una settimana complessivamente per avere le risorse in tesoreria. E quindi naturalmente l'interlocuzione che stiamo avendo con la tesoreria... Siamo un pesce d'aprile in positivo, insomma. Tendiamo di fare un pesce d'aprile in positivo, perché la interlocuzione che abbiamo con la tesoreria, se c'è il decreto del MEF, credo che la tesoreria a questo punto, alla certezza del trasferimento, potrebbe fare un mezzo miracolo di anticipare le risorse che riguardano appunto il pagamento degli stipendi. E su questo stiamo tentando di avere un'interlocuzione, che in giornata speriamo di comune. E quindi voi tentate con la banca di... Noi le stiamo tentando. Con la BNL tentate di far anticipare i soldi che arriveranno. Che arriveranno una volta che c'è la certezza del decreto. Naturalmente non sappiamo se ci riusciamo, è un tentativo che stiamo facendo insieme ai sindacati, appunto all'RSU della provincia stessa. Proprio per vedere se riusciamo a dare una risposta che è attessa da ormai da parecchi mesi da parte dei dipendenti. Questo è il percorso. Naturalmente questo ragionamento riguarda anche i dipendenti della società di servizio. Ci sarà qualcosa per tutti? Assolutamente sì. I dipendenti del trasferimento riguardano solo la proposta di vita e non tutte le cose di città. Il MEF ha sbloccato e ha trasferito le risorse. La procura della Repubblica di Catanzaro ha avviato un'indagine al momento contro i gnoti dopo la presentazione di un esposto da parte di alcuni giornalisti che sono stati in servizio nell'ufficio stampa della Giunta regionale durante la scorsa legislatura. Il reato ipotizzato nell'indagine è quello di abuso d'ufficio. Nell'esposto i denunciati hanno segnalato la presunta disparità di trattamento e la discrezionalità della dirigenza regionale nell'applicazione solo parziale del piano occupazionale 2014-2016 approvato dalla Giunta sul loro licenziamento da parte dell'ente in contraddizione con i pareri dell'Avvocatura regionale sulla mancata applicazione di leggi regionali e nazionali. Ricerca di idrocarburi nei fondali del mare crotonese. Il Ministero dello Sviluppo Economico rinvia l'iter della valutazione di impatto ambientale per la concessione del permesso. La Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha rinviato la decisione di dare la valutazione di impatto ambientale a una società che voleva fare ricerche di idrocarburi nel mare antistante Crotone. Questa società aveva fatto domanda per chiedere la valutazione di impatto ambientale in un primo momento sembrava che dovesse averlo invece la decisione è stata rinviata rinviata a data destinazione. È chiaro che il Ministero difficilmente avrebbe potuto dare un documento di valutazione di impatto ambientale positivo in una fase in cui è aperta una campagna elettorale per dire no a tutte le eventuali trivellazioni. Quindi è reputato opportuno rinviare la decisione data da Senasi e comunque successivamente al referendum che si terrà il prossimo 17 di aprile. Tappa anche a Crotone di Ania Campus è un progetto dedicato ai giovani studenti per la loro sicurezza sulle due ruote. Ania Campus, lezioni di sicurezza qui a Crotone insieme alla Polizia Stradale. L'ho fatta anche io questa volta. Sono un'attività che viene a Crotone per seguire quello che stiamo mandando avanti nei vari anni. Ania ha deciso di ritornare a Crotone era venuta al Forum Europeo della Sicurezza Stradale due anni fa e sta continuando ad essere al nostro fianco. Questa volta per dare la possibilità ai ragazzi di capire cosa bisogna fare nella teoria, nell'aula interna si fa della teoria grazie anche alla Federazione Motociclistica Italiana e poi dopo con gli istruttori di scuola fanno anche attività pratica. L'azione di guida a noi abbiamo fatto adesso pomeriggio ci sarà la possibilità anche per gli adulti per fare questo tipo di attività una cosa anche questa molto interessante perché molto spesso le persone adulte si sentono sicure senza però pensare alle cose che invece accadono sulla strada. Ecco, con questi tipi di casco che hanno la possibilità di essere seguiti da una parte all'altra c'è la possibilità di capire quali sono i pericoli quindi si fa proprio road safety cioè quali sono i pericoli che durante il percorso possono avvenire. Ti racconto che cosa abbiamo visto? Quello che tutto vediamo durante il giorno camminare con il cellulare proprio alle mani alla guida le signore che attraversano senza magari vedere se hanno o meno la precedenza agli incroci o piuttosto alle rotatorie e poi vabbè i problemi infrastrutturali che ci sono le buche, i tombini quelli che sono un po' più bassi sono tutte cose che per magari un'automobilista normale non possono provocare delle problematiche perché sei alla guida di un autoveicolo interno ti puoi ferire certamente in città sono spesso infatti volentieri gli incidenti conferiti però alla guida di un motoveicolo andare su un tombino che sta 20 cm più sotto è evidente che potrebbe cadere sbagliare la testa sbagliare la testa rompersi un braccio rompersi un braccio se non si usano queste cose si rompono la testa e poi le cose sono serie Umberto Dallapiana è il responsabile Ania è il responsabile di quella che sta facendo questo giro esattamente io sono un istruttore di guida sicura e seguo per fondazione Ania tutto il tour Ania Campus del 2016 a Crotone per istruire i giovani per dare questo messaggio ai giovani guidate in maniera oculata perché altrimenti rischiate di perdere la vita esatto diamo loro suggerimenti prima di tutto sulla guida attiva e anche suggerimenti sull'abbigliamento corretto da indossare nel momento in cui i ragazzini si mettono alla guida di un mezzo a due ruote fatto questo se loro non hanno mai guidato un mezzo a due ruote insegniamo loro a muoverlo se già hanno capacità di guida lavoriamo sulle tecniche di guida sicura quindi insegniamo loro una frenata d'emergenza l'evitamento di un ostacolo e comunque insegniamo loro ad affrontare situazioni di emergenza tutto ciò fatto in totale sicurezza con l'abbigliamento corretto e dando loro anche suggerimenti di buon senso come rispondono? la risposta è positiva i ragazzini sono interessati e insomma se lo ricordino per sempre la nostra speranza è che escano da questa giornata con un input che portino avanti nei giorni futuri ed ora Bruno Tassone vi saluto ecco qui una semana in caso un'unica senza voce di questo ve ne potete pure accorgere ma è proprio per questo non è nascito di niente è rimasto sempre alla casa perciò le notezze subito i candidatori a Sennaco le sono potute liere subito il giornale li hanno e pensando io vi posso assicurare che aveva i rifili i cui aveva veniva per dire a votare per i primari e vi posso assicurare che se è rimasto a buca aperta quando l'aiuto che a Melillo ha riterato la candidatura è rimasto un palato sentendo che l'ha fatto perché ha visto che i partiti di sinistra stanno facendo tutto per trovare un candidato senza guerra tra frate ma com'è possibile che prima ha fatto in un gruppo per far sostenere e poi la mattina alla sera ha canciato un modo di pensare Ciccio Rireno mi ha detto ci ha capitato la stessa cosa di San Paolo subastati da Masco ma i battuti subattuti ma quando l'aiuto che a Pante San insieme a Vallone aiuta a Roma per far dare la benedizione è cacchino del nazionale non solo sono state d'accordo ma ci hanno detto che sanno mentire d'accordo con il scolco oltre alla bocca aperta è rimasto con le razze mosci non perché ce l'hanno detto e si mentire il lato ma Cavallone con il coraggio l'ione ha risposto con il cannellato e il Pantesano perché sulle regole lo statuto e che a Roma ha continuato possono dire che erano che erano per chi oramai è deciso ma lì hanno che erano scritto che erano i sell è rimasto bloccato tutto perché è pensato ma se loro sono d'accordo con la cannellatura di Pante San per chi ce l'hanno detto chi ha rettun quando ancora si parlava di primarie invece da aspettare che a me lì lo riterassero la cannellatura vedendo e sentendo queste cose mi ha ricordato una fragoliccia una fragoliccia che serve solo per spiegare che può capitare in un momento al lato dentro queste partite dentro questa unione questo gruppo che deve sadeleggere il sindaco la fragoliccia dice che o meno è così un'aquila e un'avorpa dopo che hanno fatto l'amicizia si hanno messo d'accordo di stare vicini in casa pensano che a chi sto faceva documentare un bene è l'amicizia l'aquila ha volato sub l'arbero ed ha fatto un edo mentre l'avorpa ha scavato a tanare radici lo stesso arbero dove ha fatto i burpiceri ma noi orno mentre la burpa aveva aiuto a cercare anche una cosa di mangiare l'aquila ha aiuto un tatano sappiate i burpiceri e se l'ha mangiato insieme con i figli quando la burpa ha tornato e non ha trovato i figli si ha messo a cincere ma non tanto per la morta che avevano fatto ma per il tratamento e l'amicizia perciò si ha messo da capi si venne care ma come capita a chiere che utenano né forza né sorde né richizie di solito l'unica cosa che poteva fare era a chiere i guardari storto e ci estimare i morti ogni volta che aveteva ma dopo nemmeno una semana a burpa più la fama a una cucchia i cacciatori che stavano arrostendo uno cervo ci ha rubato uno bello pezzo di carne proprio una bella coscia ma un sacco d'accordo che come la tirava si ha portato da presso pure un'otezzona arrivata la tana si ha messo a mangiare che la pezzi di carne ma ho stato accorto che anche un'otezzona aveva fatto piare fuoco all'erba e pure all'arbre i fiamme hanno arrivato a runire l'aquila e le piccionere s'hanno bruciate ed hanno caduto in terra la burpa come ha visto che le corpizioni in terra si l'hai cappato e se l'ha mangiato beh io pulisse che sta amicizia che stanno cercando di fare invece di cercare dove è possibile avere amicizia avesse di risultare come ha fatto l'acqua e l'acqua le dà la burpa vi saluto l'andrangheta spiegata ai turisti presenta il libro Francesco Forgione introduce Maglio Cagliazza della direzione dei giovani democratici della Calabria conclude Arturo Brova presidente della commissione antimafia Calabria domani giovedì 24 marzo alle 18 presso i locali della libreria Cerrelli di Crotone molto nuvoloso visibilità ottima il vento di sette nodi il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 12 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 11 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Mar Gionio tempo vento da sud-est forza 7 rotazione da sud-ovest e parzialmente nuvoloso visibilità discreta mare agitato al settore est tendenza vento da sud-ovest forza 9 e rovesci al settore est bene per me è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti Grazie.